Una fiera ha un senso solamente se è internazionale, noi a questo credo il vero senso del McFruit che non è più solo un appuntamento italiano ma è una grande fiera internazionale, io credo che questo si possa toccare con Manoj. Il contenitore non è solo l'unica cosa che conta, c'è anche il contenuto e devo dire che grazie all'aiuto di tanti operatori, di tanti amici che sono messi a disposizione abbiamo rilanciato questa manifestazione che oggi è veramente una grande fiera internazionale. Che feedback vi aspettate da quest'anno? Il feedback ormai noi a parte i visitatori il resto degli elementi li abbiamo già in mano, quest'anno c'è una presenza fortissima di operatori internazionali invitati da noi e tantissimi di cui abbiamo conoscenza, i conti li faremo alla fine ma questa sicuramente sarà una grande fiera.